Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, oggi video dedicato ai regali però questa volta non vi farò vedere dei regali che sono stati fatti a me ma vi farò vedere i regali che hanno ricevuto i miei genitori per i loro 50 anni di matrimonio, hanno festeggiato le nozze d'oro, il loro anniversario in modo molto intimo con i parenti più stretti però hanno ricevuto dei regali bellissimi e quindi ho pensato di condividerli sul canale ma prima di farvi vedere tutti i regali voglio farvi vedere questo segnalibro che è stato creato interamente da mia mamma come ricordo della festa quindi diciamo che in un certo senso è la bomboniera che mia madre ha voluto regalare appunto agli invitati, si tratta di questo segnalibro, sopra c'è un'immagine di peinè che mia madre ha leggermente modificato perché l'immagine originale non aveva la torta in mezzo invece mia mamma ha aggiunto la torta e ha lasciato le due immagini di peinè quindi veramente molto carino poi c'è una frase che se non ricordo male è di Ungaretti però non mi vorrei sbagliare che dice il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia il vero amore è una quiete accesa poi ci sono i nomi di mia mamma e di mio papà e la data di matrimonio che era il 4 marzo del 1973 comunque questo è davvero carino e c'è la nappina in fondo con il cuoricino qua quindi secondo me questo è davvero molto carino ovviamente c'era il sacchettino con i confetti sacchettino dorato con confetti dorati perché l'usanza è utilizzare dei confetti dorati per le nozze d'oro e poi mia mamma per abbellire un po la sala per mettere sul tavolo qualcosa di un pochino carino ha creato con la carta crespa questi fiori ha fatto la foglia e questo fiore bianco e questi erano tutti appoggiati sul tavolo ma probabilmente li avete già visti perché ho fatto un breve video tanto per farvi vedere l'allestimento per farvi vedere un po quello che era presente sulla tavola comunque diciamo che l'abbinamento del segnalibre dei confetti è la bomboniera è quello che abbiamo lasciato ai parenti questo invece me lo sono preso io per ricordo perché comunque mi piaceva tantissimo adesso però vi faccio vedere i regali partiamo da questo regalo goloso perché si tratta di un cofanetto smart box collezione speciale a tavola con gusto e comprende un pranzo oppure una cena di due portate con calice di vino per due persone da italy quindi sicuramente un regalo speciale e goloso come dicevo prima poi andiamo avanti perché ci sono stati dei bellissimi fiori questo è un mazzo di fiori meraviglioso che i miei hanno ricevuto vedete che ci sono delle rose gialle delle rose arancioni dei tulipani e poi ovviamente il tutto è abbellito con una confezione meravigliosa mia mamma lo ha messo in un vaso e devo dire che anche davanti alla sua finestra fa una bellissima figura poi a proposito di fiori hanno ricevuto questa bellissima orchidea questa è davvero meravigliosa poi secondo me l'orchidea è un fiore elegante quasi prestigioso mi viene da dire perché comunque fa sempre una figura bellissima poi ha ricevuto in particolare mia mamma perché questo è più adatto a lei e non tanto alla coppia però comunque glielo ha fatto una sua amica quindi ci sta benissimo è un regalo assolutamente meraviglioso secondo me perché si tratta di una confezione che comprende correttore fondotinta rossetto acqua profumata gerlaine e poi in particolare due campioncini di profumo j'adore che io adoro ma andiamo avanti con i regali hanno ricevuto un altro cofanetto smart box sapori firmati michelin tavole gourmet quindi anche in questo caso si tratta di una cena di un pranzo di un aperitivo insomma comunque una cosa golosa sicuramente i miei avranno da fare nei prossimi mesi poi ha ricevuto questo regalo davvero originalissimo che le ha fatto mia cugina si tratta di un terrarium quindi quelle composizioni floreali quelle piante che rimangono sotto vetro all'interno di una confezione di vetro io non vi so dire le caratteristiche precise perché non mi intendo di piante però da quel poco che so credo che sia un po una composizione floreale eterna perché poi rimane all'interno di questo barattolo di vetro e si conserva davvero una cosa bellissima molto originale andiamo avanti ancora con cofanetti in questa volta wonder box infinite emozioni per due questo è leggermente diverso da quelli che abbiamo visto prima perché non comprende soltanto pranzo cena o aperitivo ma volendo si può scegliere anche una notte in hotel o residence quindi si può fare un weekend fuori poi vi faccio vedere velocemente questi due sposini che in realtà servivano per abbellire il regalo che io ho fatto i miei genitori quindi è una cosa in più che magari loro si mettono lì sulla mensola per ricordo però non è regalo ovviamente ufficiale ma era semplicemente un modo per abbellire il pacchetto però sono carini quindi volevo farveli vedere e questo è il regalo che gli ho fatto io visto così mi rendo conto che non dice niente ma si tratta di un album di fotografie che contiene tutti i loro ricordi quindi io ho recuperato delle foto di quando erano giovani di quando erano fidanzati dei primi anni di matrimonio di quando sono nata io poi insomma sono andata un pochino avanti negli anni ho selezionato quelle più belle e ho creato appunto questo album di ricordi ho dato un titolo anche all'album che è mi ritorno in mente perché la canzone dei miei genitori è mi ritorno in mente di lucio battisti quindi ho dato questo titolo che secondo me si presta perché voleva proprio essere un album di ricordi quindi la frase mi ritorno in mente ci sta e poi come ultima foto ne ho messo una in cui si danno un bacio e ho messo e la storia continua perché volevo creare proprio questo album di ricordi e lasciare anche delle pagine bianche per poter aggiungere altre foto poi hanno ricevuto questo bellissimo completo di lenzuola e federe per letto matrimoniale della marca bassetti quindi assolutamente di ottima qualità ed è un bellissimo colore questo motivo che vedete un pochino nella confezione credo si chiami motivo cashmere non vorrei sbagliarmi però un motivo molto bello che mi è sempre piaciuto tanto poi hanno ricevuto questa bellissima cornice con orologio è davvero ben rifinita perché davvero bella naturalmente voi state vedendo una loro foto camuffata perché quella originale non è così ovviamente ma io per una questione di privacy ho oscurato il visolo un po camuffato in modo che non si capisca comunque è una foto meravigliosa ma io devo segnalare che la persona che ha fatto regalo ai miei genitori in particolare un loro cugino ha modificato lo sfondo mi aveva chiesto una loro foto che io gli ho mandato però lo sfondo non era così era diverso e lui con dei programmi di grafica penso photoshop ma non vi so dire se è proprio photoshop comunque un programma di quel tipo ha modificato lo sfondo inserendo quello che vedete adesso che secondo me è bellissimo perché è super romantico mi piace tantissimo e poi un altro regalo con una loro foto è questo cuscino anche questo credo che sia molto originale perché comunque poi quando lo vedranno sul divano si ricorderanno magari di quel momento il momento in cui hanno scattato proprio quella foto erano sicuramente in vacanza da qualche parte perché quel tipo di abbigliamento lo indossano solo in vacanza e questo è ancora meglio perché ricordare le vacanze è sempre qualcosa di molto positivo come avete visto sono tutti regali veramente molto carini fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuto di più io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme